...di sotto il luogo... ...puro l'uomo con il pittino... ...la pittina... ...però non può essere azzurro in prima la Corsieri... ...la partenza del 5... ...se è stato qui... ...Corsieri di Voto di Voto di Voto di Castagna... ...Petriano, un po' di compagno... ...e poi... ...e poi... ...di vado... ...e poi... ...e poi... ...e poi... ...e la vittoria... ...per il numero di una momento in Italia... ...la rappresentante Bergamo... ...Marco Castagna... ...13,72... ...chiamiamo allora in zona premiazione anche... ...